Buonasera, vi vedo particolarmente solare. Parlatevi del vostro amato. Il mio amato è il mio primo fidanzato e ci sposeremo a breve, con un matrimonio come Dio comanda, si spera. E' il classico bravo ragazzo, lui lavora, lui va in chiesa, è anche una brava persona, molto onesto. Certo, lui a volte si lascia un po' trasportare, a volte dice subito quello che pensa e poi le cose prendono il sopravvento su di lui. Però mi piace anche per questo. E, dite, c'è stato un istante nella vostra vicenda in cui ha pensato che non ce l'avrebbe proprio fatta? Beh, in realtà sì, ho visto tutte le peripezie che si sono succedute. Devo dire, forse quando sono stata rapita, sì, eravamo fuggiti e poi sono stata rapita da lei, lei sa chi. E, però, però, il buon Dio mi ha aiutato, io non ne ho mai dubitato. E, infatti, infatti ora sono qui, spero solo di avere una vita tranquilla, perché, insomma, ho vissuto tante avventure e ora voglio un po' di serenità. Un'ultima domanda, secondo voi perché le persone riescono a essere così malvagie? Questa domanda dovrebbe farla a un buon prete, però, vede, probabilmente si sono sentite anche loro abbandonate da Dio. E forse i loro istinti hanno preso il sopravvento, ma io so che tutte le persone possono essere redente e che basta un semplice atto di misericordia. E il buon Dio ci perdona tutti. Grazie mille, spero di rivedervi presto. Grazie.